Eccoci con Roberto Sagoleo, presidente, allenatore e a volte anche giocatore degli AC Carreri Bar delle Rose una squadra che partecipa ad anni al torneo Fuzzallig quest'anno è un'annata un po' particolare, una stagione altalenante vincete con la prima in classifica STR ma perdete con squadre meno forti cosa succede? Cosa è successo quest'anno? Ma guarda, siamo partiti abbastanza bene, poi abbiamo perso con l'ultimo in classifica però l'importante è rimanere sempre lì In classifica? Quindi al momento siete primi, state aspettando il risultato sul campo 3 degli STR, giusto? Ma guarda, io spero che vincano, ne soppressiamo al ritorno quando li vinceremo alla partita di ritorno E' da anni che c'è questa rivalità tra voi, giusto? No, ma guarda, se si guarda gli scontri, sono loro, li abbiamo buttati fuori due volte dal mondialito Vabbè, hanno vinto anche loro il campionato, diciamo che siamo lì Da quanti anni è che vincete il mondialito? Secondo o terzo anno di fila, se non sbaglio? Sì, secondo Secondo anno di fila? Secondo, poi un anno secondi, un anno ancora primi, diciamo che l'abbiamo vinto Vi manca la Champions League, insomma Sì È dura Sì, è l'unica coppa che non siamo riusciti a vincere Dai, mi raccomando per quest'anno, vedete di organizzarvi Eh, prima o poi la vinceremo Speriamo, dai Speriamo, dai, bocca al lupo Grazie